Quante volte vi è capitato a due minuti dall'apertura dei botteghini online di non trovare più nessun biglietto? Ecco, non è colpa vostra che siete stati lenti, la colpa sono sistemi automatizzati chiamati bot che sono stati realizzati da società che all'apertura dei botteghini comprano centinaia di migliaia di biglietti per poi rivenderli su canali secondari a prezzi fortemente maggiorati. Questo è un problema sia per chi deve acquistare il biglietto sia per l'attista che viene poi messo in difficoltà. Allora, il Movimento 5 Stelle a questa pratica non ci sta, la vogliamo risolvere immediatamente. Abbiamo subito realizzato la nostra proposta che ha due pilastri fondamentali. Uno è l'obbligo alle società che vendono biglietti online di dotarsi di efficaci sistemi anti-bot se vogliono vendere sul mercato italiano. E il secondo è mettere solo biglietti nominali. Quindi queste sono soluzioni efficaci e molto semplici per bloccare sul nascere questa brutta abitudine questa brutta usanza e questi brutti sistemi che stanno utilizzando parecchie società nel mercato oggi sulla rete. Aspettiamo le vostre proposte sulla piattaforma Rousseau.